Si sono ritrovati in alcune decine, in piazza San Benedetto a Norcia alle 7 e 41 precise, per ricordare che è già passato un anno dalla grande scossa di terremoto di magnitudo 6 maggio che, allo stesso orario del 30 ottobre 2016, sconvolse il capoluogo della Valnerina, ed altri centri di questa zona dell'Umbria, come Preici, Cascia e Castelloccio. Alle 7 e 41 hanno suonato le campane e poi, in un grande silenzio pieno di emozione, i monaci benedettini hanno intonato il canto Veni Creator. In piazza, insieme al Vescovo, Renato Boccardo, ed ai rappresentanti delle istituzioni, anche molti dei volontari impegnati nell'emergenza dopo il sisma. Iniziative ed appuntamenti per discutere della ricostruzione, sono in programma a Norcia, e in altri centri per oggi, e nei prossimi giorni. Vescovo di Norcia, spaventano burocrazia e lentezza, mi spaventa la burocrazia e la lentezza, in momenti come questi c'è bisogno di legalità e trasparenza, ma anche di essere veloci, per dare risposta alle esigenze delle persone, che sono la priorità. Così stamani a Norcia il Vescovo, Monsignor Renato Boccardo, parlando stamani a margine della cerimonia religiosa, in piazza San Benedetto, svoltasi a un anno dal sisma. Al tempo stesso, ha aggiunto Boccardo, mi conforta la solidarietà, e la generosità, che abbiamo sperimentato in questo anno, e il coraggio, e la determinazione delle comunità della Valnerina che, dopo un evento così drammatico, non si sono arrese ma appena è stato possibile hanno ricominciato a vivere. Marini, grazie di cuore a chi ci soccorse, un gesto semplice, ma carico di un profondo sentimento di riconoscenza, per dirvi grazie di cuore per ciò che avete fatto, per quanto ci siete stati vicini, sin dalla primissime ore di quel drammatico 30 ottobre dello scorso anno. Così la presidente dell'Umbria, Katiuscia Marini, stamani a Norcia, nella cerimonia di ringraziamento di coloro che intervennero in soccorso delle popolazioni colpite dal sisma, organizzata dal comune di Norcia, insieme alla regione, cui hanno partecipato, oltre al sindaco della città, Nicola Alemanno, dal 30 ottobre 2016 Norcia siete anche voi, ha detto, la presidente del Consiglio regionale, Donatella Porzi, il capo della protezione civile, Angelo Borrelli, e l'ex capo, Fabrizio Curcio. Grazie alla vostra solidarietà, al vostro straordinario lavoro, ha aggiunto Marini, non ci siamo mai sentiti soli.